Dal profilo Facebook di Maria Di Norsi del 29 luglio 2024. Storie ultime per ricordare chi cade. Ottava puntata. Prosegue dal posto del 22 luglio edizione del 29 luglio. Mattia. Mattia Bottero, 23 anni, allevatore originario di Garesso in provincia di Cuneo, ma residente nella vicina Priero dove lavorava nell'azienda agricola di famiglia, è morto all'alba di domenica precipitando in un ruscello quasi privo d'acqua sotto a un ponte all'altezza di Piazza Tornatore. Il ragazzo, noto nella zona con il soprannome di Bobo, era reduce dalla nottata del sabato trascorsa in discoteca con gli amici. Si ipotizza che un malore abbia causato la fatale caduta da un'altezza di circa 7 metri. Manuele. Manuele Micheletto, 41 anni, architetto e designer di Belluno con la passione per i motori, è morto domenica mentre faceva il volontario a rally dell'Alpe del Nevegal, evento per il quale aveva anche disegnato il logo. Manu, così lo chiamavano gli amici, è rimasto schiacciato dal ribaltamento di un rimorchio alla fine della gara automobilistica. La gravità delle sue condizioni ha subito richiesto l'arrivo sul luogo dell'incidente e di un elicottero di soccorso, arrivato rapidamente, ma quando l'uomo era purtroppo già deceduto. Orazio. Orazio Riundo, 19 anni, di Ottaviano in provincia di Napoli, è morto mentre stava rientrando a casa nella notte, tra domenica e lunedì, a bordo del suo scooter. Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo mentre percorreva via Cesare Ottaviano Augusto nella località alle pendici del Vesuvio, andandosi a schiantare su un'isola spartitraffico. La procura di Torre Annunziata ha subito aperto un'inchiesta per verificare con precisione la dinamica del fatale incidente. Senza nome. Un giovane italiano di 27 anni detenuto nel carcere di Prato si è impiccato sabato nella sua cella. Scontava condanne che situavano il fine pena al 2032. Si tratta del suicidio numero 60 in carcere quest'anno, cui si devono aggiungere sei agenti della polizia penitenziale che si sono tolti la vita. Un ingegnero ucraino di 47 anni è morto sabato nelle acque del mare di Crotone, dove si era tuffato per sfuggire uno sciame di vespe comparso in spiaggia, alla puntura delle quali si sapeva allergico. Gli accertamenti medici hanno confermato che l'uomo non è stato appunto dagli insetti, ma è morto di infarto, probabilmente per la paura che gli ha provocato lo sciame, che poi ha colpito invece molti dei soccorritori senza gravi conseguenze. Una donna di 34 anni di Genova è morta domenica pomeriggio investita da un masso mentre camminava su un sentiero di montagna nel Bellunese, lungo il vallon del Froppa. Era in escursione insieme ad altri cinque amici, rimasti illesi. Aureliano Aureliano Baxano, 47 anni, clochard di origine romena, assai noto nelle strade di Padova dove viveva, è morto giovedì nell'area arginale del cavalcavia di via Chiesa Nuova. Il suo corpo è stato ritrovato tra la vegetazione circostante. Figura solitaria e schiva, Aureliano era comunque benvoluto dalla cittadinanza, tanto che il comune di Padova ha deciso di tributargli il funerale gratuita a cura del settore dei servizi sociali, di cui aveva rifiutato l'invito a soffrire di un giaciglio a coperto per la notte. La Procura ha aperto un'inchiesta formale per l'omicidio, ma sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza e si ritiene che la morte sia stata causata da un improvviso malore. Continua Grazie a tutti Grazie a tutti